Travizzi Ok Questo Questo Siamo a postino a postino Guarda io gli faccio tirare pure questo Posto C'abbiamo tutto qua C'abbiamo pure Death World Ah no questo lo puoi tirare solo su una persona Oh no Attendi Mamma mia andate sul monarca Con la violenza dei Dei 100 dragoni assassini Ah la sta stirando Va bene Ricordo che è giusto che si sposta Questi vanno assolutamente Shotati instant Perché sono la cosa più pericolosa del gioco È andata molto meglio RNG è stato amico nostro RNGesus What No vabbè L'intelligenza artificiale top Al top ragazzi Al top Andiamo proprio al top dell'intelligenza artificiale Sono partiti come dei missili Verso Che cazzo Ma porca Allora Stamerei Dei merda Qua È morta La ninfa La ninfa Bisogna per fuori Ragazzi Le ninfe Le ninfe Toccava fuori Ragazzi Invece Pensare Era quella Oh Cosa Bb 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 Pratica Non volendo Abbiamo fatto fuori Tipo tutto Tutta la villa Qua Tutta la casa Ok Va bene Ok Va benissimo No problem No Non c'è bisogno Di campeggiare Vediamo un po' Che c'è qui Un po' De robetta Questi monarch Sono quelli pericolosi Il resto Poca roba Ma i monarch Tocca sta attenti Allora Tu devi What Perché è esploso Buffo Knock knock C'è Va bene Non lo so Patrizio Turinos Vai Aveva perso Tutta la costituzione Era per quello Che era andato giù Poverino Maledetti Allora Ordina questo C'ho 3000 pozioni Senti Usa questo Sarebbe bello Se ci fosse una shortcut Per fare questo Ok F5 Perché non vorrei mai Doverlo ricliccare di nuovo E andiamo avanti Ah Ci abbiamo il pet Decoon Che è morto Ma vabbè Insomma Non è che Sia big deal Ok Lo riacchiappiamo poi Chiuso Onesto Ci può stare C'è un altro Oh baby Ah knock knock Ci pensa Vai knock knock E' carinissimo Knock knock Si emoziona Quando lo guardano E' nervoso Quando lo fissano Per quello Per quello Non c'è riuscita E cacchio Aprite una porta Aprite le porte Oh Qua ci stanno i nemici Questi vanno pullati Venite dietro Ho preso 28 danni Non so perché Wow Ok Che danni arrivano Ragazzi Wow Wow Ma su sti affari qua Che fanno tutti sti cavolo De danni Mi sa che dovrei Perdi meno tempo Con lo swarm Che fa zero danni E shuttare Quei golem giganti Che ci stanno squartando L'iniziativa Determina Quanto velocemente Il tuo character Fa le cose Non so che cavolo L'hanno ucciso Li Venite Venite Che bordale Ragazzi Sì Vabbè Oh Cioè da tipo 30 A A negativo Fa quel coso Ma che sta a dire Allora mo Lo chito Lo chito Che cunda E basta Che lo devo uccidere Da lontano Ma che cazzo Lo swarm Ma quello lì Ci ha fatto Quel debuff Allucinante Non ho capito Perché ci increpiamo Perché li fa diventare I nostri uomini Dei vermi Praticamente Oh Perché lo aggrati Senza aggrarli Non ho capito What Che sta succedendo Ma perché Non capisco Non capisco Sono frustrato Sono frustrato Da tutto ciò Perché ha fatto Sta mossa Non ho capito Che fa così Il gioco Perché me fai questa Perché me fai questa A volte Mi hai detto Pathfinder Perché non l'hai aggrati Normalmente Non mi hai dato La possibilità Di tornare indietro Ma perché sto In combattimento Io Ok F5 Siamo fuori Dal combattimento Siamo in combattimento Ah Non posso andare Più indietro Di lì Questo è tipo Top gravità Mondo Praticamente Che posso fa' Per evitare Che questo Ce te buffi La morte Tutto il party Che spell magiche Praticamente Non ne ho Praticamente Non ho Una mazza Io I mortaggi Se ci avessi Old monster Per esempio Potrei fare qualcosa Male 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 Sta cosa è proprio malissimo Guarda lì subito Subito meno 5 Forza Per preso Praticamente In un secondo Dovrebbero proprio squartarlo Instant E forse Forse Se lo Mega squartano Ce la fanno E che l'hanno quasi fatto fuori Va bene Così se può fa' E poi riposiamo dopo Questa situazione Grazie Portacci vostri Se ne usciamo Vivi Quanta vita C'ha Aiuto 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 Oh Wow E' andato G1 Attenzione Branda Devi resistere Branda Devi resistere Perché se muori tu Siamo finiti Valery Picchia questo Vai 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 E' l'ultimo E con DPS Tanto DPS Valery Perché sta anch'io Data per terra Sta cretina Per la cosa Guarda lì Ci abbiamo Valery C'ha 10 forze C'ho io credo L'unico che non è debuffato a morte E' Kunda Io Oh mamma mia Che brutto Brutto Fight Decisamente Decisamente Un riposino Needed Qua Meno male che mi sono portato le cose Vabbè tanto Forse puoi uscire e prenderle Non lo so Pensate se non le potevi Se non puoi prenderle E te la devi prendere in saccoccia così Lui addirittura a 4 Gliel'ha messa la forza Wow Forza a 4 Poveraccio di knock knock E mo teniamoceli un attimo così Che non voglio spreca troppe A Timo la mia goleccia Se la mia goleccia è il ragazzo Non voglio sprecare troppe risorse Perché non so quante ce ne abbiamo Ma non è che ne abbiamo 99.000 di cose Avevo di comprare Tutto io su quali mortacci vostri Questa è l'ultima stanza dove posso andare Colletta tutto e via Sarà il piano Il fantomatico piano di sotto Di cui parlavamo Sarà lui Lo vedremo tra poco Se il caricamento ce lo permette Ok ma è familiare sta zona Non so Ho visto già qualcosa del genere Non so Resurrection è importante Frightful Aspect Holy Aura Più 4 Deflection Resistance bonus save Non male Aura Holy Però Non lo so E che le evocazioni pure ne sono Per dire pure questo per esempio Rift of Ruin C'è il suo Non mi era dispiaciuto Alla fine è un cc enorme Dovresti fare Forza a tutti Almeno questi dai Non so perché ha flopato il cast Vabbè Strano che abbia fallito il cast Il Chiericone Oh mamma mia Che noiosi sti ragazzi Bello bello se lo vuoi Mamma mia brand ha preso una pizza infinita Vai col dazzling display Non ho dazzlato nulla Ovviamente un fight Devi riposarti con queste cose Sono fortissimo E che botta Certo c'è da dire che sono anche bello debuffato Anche quello è qualcosa che Ma perché Okbo è rimasto fermo Okbo Okbo You let me down Aspetta qua c'è un passaggio E qua Tuve Che duriamo Finchè duriamo qua andiamo avanti tutti rotti Ok il passaggio era Una medusa Durata assai Meno male che esplosa così A Renji ci ha aiutato Che probabilmente sarebbe stata un avversario pericolosissimo Quella se l'avessimo lasciata fare Per più di mezzo secondo A fortuna vuole che esplosa Che costly cards ragazzi Che palla Questi sono proprio una rottura di coglioni Questi sono tra i mob più rompi i coglioni Tra l'altro qua dentro Sicuro non c'è un cazzo Non vanno uccisi Va bene così Sono certo come al solito Che è uno scontro Che possiamo tranquillamente risparmiarci Com'è la stanza che c'era sopra Che alla fine non c'era una sega Allora qua che fa? Si sale Aspetta un attimo Questa stanza qua secondo me è importante invece Questa stanza qui è importante E noi ci andriamo proprio Una trappola Vai nocchio nocchio Bravo nocchio nocchio Proprio whoops Mi chiazzano Sono cidra stilosi Che ne so io Tutto perché Valeria è un cacchio di cane Ah perché c'ha Bella col polimo Aspetta un attimo Facciamola un po' meglio sta faccenda Cerchiamo di aggiustarla In maniera un po' più funzionale Funzionale Cicamenti speriamo di no Perché non c'ho più scroll Contro l'accegamento Ne so 5 Oh ma tanto quei cosi in realtà Li conciotti Le illusioni del ciufolo là C'è un po' più I'll grant you death. Cannot hide from me. Hmm. Oh, ma non è che stava proprio in una bella situazione. Ma questi li c'è in missa, no? Però il problema è che avrei dovuto fare qualche away. Avrebbe stato più facile. Anche una palla di fuoco del pittorio stava bene. Che ha ben 21 di critico, Harry. Ok, è stato uno scontro di supermerda. Presumibilmente è anche completamente inutile. Quindi faccio F8 e buonanotte. Non stiamo neanche a sprecarci le risorse, visto che sono molto risicate. Quei cosi... I fantasmalli qua... Non lo so. Magari c'è qualcosa qua dentro. Poi lo vedremo. Tanto andiamo avanti di qua, ma... Tanto già lo so che dovrò tipo ripercorrere poi... Le zone, magari, levando la torcia, la lanterna, eccetera... E rivedendo le varie zone e trovando pezzi del puzzle che magari mi son perso. E calma. Non sapevo. Che palla. Che noia. Guarda, sti cosi qua... Questi qui della Wild Hunt sono proprio noiosi. Poi, più che altro perché il buff per... Tutto dietro a quel buff. Il buff che li rende completamente inutili. Lo devi tirare a ogni singola persona. E questo è veramente noioso. Veramente noioso. Ditemi voi se è fan questo. Miunz. Wow, ok. Ok. Ok, continuano a moltiplicare. Vabbè. Possiamo anche non farlo, sto fight. Va benissimo. Schippiamo tutti i fight del gioco. Va benissimo. Poi il problema qui è che non è che dici... Expiamo, torniamo dopo. Qui ormai siamo alla fine. Quindi dovrebbe, tipo, darci qualcosa di... Più bilanciato magari. Non lo so. Vediamo. Qua c'è un'altra cosettina da superare. Ah, ok. Sì, sì. Qua siamo al piano... Ok, sì, 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 sì. Quindi questo piano era dove eravamo prima e c'era la porta. C'era un altro corridoio pure qua, però, mi pare. Presuntamente, almeno. Inzo. Quanti ce ne stanno, questi cosi? Ah, merda, Arrim. Se muore Arrim è fatta. Se muore Arrim siamo finiti. Allora, come uno tiene da me? Allora, come una finaccia? Questi sono troppi, semplicemente. Non ce l'abbiamo abbastanza cura. Quanto regge? Poi è morto Arrim in tutto questo. Cioè, potrei fare tranquillamente questo. Fare B. B. Come ne vado. L'attacco di opportunità da range 9000, che mi ha dato lo schiaffo. Ok. Va bene, va bene. Hey, hey, peeps. Welcome back. Welcome back, welcome back. Avevo stoppato che stavamo qua. Vediamo un po' dove ci troviamo. Ok, mancavano un po' di posti da esplorare. Stiamo messi male. Si è usato... Tutti i restoration. Vabbè, vabbè. Però, insomma... Non ci inventiamo qualcosa. Ci inventiamo qualcosa. Adesso, subito, prima di registrare, mi sono ustionato le dita della mano. Qua già avevo aperto, mi pare. C'era un fight stronzo, se non mi ricordo male. Mi sono ustionato... Indice e medio. E pollice. Prendendo un piatto bollente. Speriamo che non mi vengano le pesciche. Sennò sarà divertentissimo... Giocare. Ah, sì, beh. Sì, sì. Rimembro, rimembro. Rimembro, rimembro. Madre santa, l'ha implosa. Attenzione. Non c'ho più cura, non c'ho più una mazza. Knock, knock. Non c'ho proprio nulla da tirare, peraltro. Se non... Faio le cagate, ma... Pure knock, knock. Sta messo malissimo. Qua è tutta... È tutta scuola Ikunda io qua, eh. No, tra l'altro lui muore definitivamente. Vabbè, vabbè. Mi devo far riposare, non so. Che fight troppo rompi palla. Servono tutti i buff e le cosette varie. Allora, vabbè. Facciamoli riposare. Che sbatti. Proviamo ad andare qua dentro. Che c'è qua dentro? Wild hunt. No, wild gaze. No. L'hanno fatti riposare a prescindere. Devo tirare pure il coso anti-wild gaze. L'anti-wild gaze a tutti. Mortacci. Dove li devo far riposare io? Ma... Ah, perché c'è pure questa stanza qua che non ho visto. Hai capito? Madonna, che male il medio quando premiamo la W. Fermi tutti. No, sto... Ah, questa era quella stanza infame in realtà. Sì, l'abbiamo vista. Questa l'abbiamo vista. Vabbè, tanto vale fast fight. Vediamo se riusciamo a farlo. E se poi riposiamo qua. Ci danno al culo, questo. No, never mind. Però stiamo tutti sventratissimi. Branda è veramente una branda. Indomito. L'indomito coraggio di branda. Guarda. Oh, ecco qua. A riposire non lo possiamo fare. Manage. Usare azioni. 6, 12, 18. Ci abbiamo tre riposi a disposizione. Tre riposi a disposizione. Dopodiché siamo finiti. Bam. Una bella curettona. Continua. A volte mi addormo lì e rimango incastrato sul coso. Amica. Quanta roba c'ha questo qua. Blindness. 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 That's door. C'è tutto, buraccio. Povero. Eh, diavolo. Blindness mi sa che non c'ho neanche più le cose. Io le scroll che non ho fatto male a non comprare. No, ce l'ho una. Però scusa un po', ma non ce l'ho a cure blindness nel mio spellbook? Dove. Now. Uh.